Siamo all'Eur, qui dietro di me, penso di averlo indicato, forse nell'inquadratura precedente, poco male, ci riproviamo, c'è il palazzetto dello sport dove si giocherà la semifinale, eccolo qua, in questo caso dovrebbe essere il pala Eur, il palazzetto della semifinale e della finale della Final Four, 12.000 posti, insomma grande atmosfera, come grande atmosfera anche a Bari. Quello che ricevi, intanto queste sono le immagini di poco fa, sono andati e sono lì ad allenarsi, adesso gli azzurri, allenamento con palla della vigilia, queste immagini sono state registrate alle 18.30, fuori dall'albergo, a 20 minuti da qua, e dovrebbe vedersi tra qualche istante, sono su queste immagini, Russo, torniamo alla partita di ieri, ti ricordi nel primo set, 14-12 Italia, si fa male Russo cadendo da un muro panico proprio della squadra, che di fatto cede, perde quel set proprio per questo discorso di coesione, quando hanno visto un uomo, un amico, un compagno, tra l'altro riduce un infortunio al tendine d'Achille, saltò l'europeo di due anni fa, cadere e l'impressione fosse, era veramente di un infortunio grave, di fatto hanno smesso di giocare, hanno regalato il set all'Olanda. Qui ci sta dicendo, sì, adesso vediamo, la situazione è meno grave del previsto, poi c'era confermato anche il doc, anche il dottore ha detto, è qualcosa di più di una botta, se fosse stato col club probabilmente non si sarebbe rischiato, ma siccome c'è una semifinale, ci si prova almeno, oggi se lenerà a parte, ci si prova, io immagino non per la semifinale ma per la finale, fatto sta che non è una cosa grave come sembrava in un primo momento, di fatto in quell'occasione la squadra si è disunita per un attimo, salvo poi riprendersi, vincere il secondo e il terzo, poi incomprensibilmente, anche se in realtà la spiegazione cede, Nimir, nel quarto set l'Olanda rivince, e quel tie break con l'unione del gruppo, la forza, la capacità di Stati Uniti, l'Italia ha dimostrato di poter superare quasi qualunque ostacolo e serviranno queste caratteristiche tecniche anche morali con la Francia, che insomma è una classica, soprattutto dei tempi più recenti.